Non esiste una costante di accelerazione che possa fornire la corrispondenza fra un determinato intervallo di tempo di esposizione in nebbia salina neutra e un ambiente ben definito marino, industriale, urbano, rurale o indoor. La numerosità delle esposizioni possibili in esterno, con gli innumerevoli parametri ambientali che possono variare, non consentono di stabilire a priori una corrispondenza fra il tempo di esposizione in nebbia salina e la durata in esterno. Arrivederci alla prossima pillola di TechEuroLab.